L'Istituto Comprensivo Don Giglio Testa di Venafro sta portando avanti un progetto internazionale all'insegna dello scambio culturale, di educazione alla cittadinanza attiva e non da ultimo dell'apprendimento e perfezionamento della lingua inglese. È l'ormai collaudato e apprezzato progetto Erasmus. Gli studenti coinvolti, quelli dell'ultimo anno di scuola primaria insieme agli alunni del primo anno della scuola secondaria di primo grado, la prima media per intenderci. Gli alunni che soggiorneranno in uno degli altri cinque paesi europei aderenti individuati sulla base di specifiche capacità linguistiche e relazionali. I ragazzi conosceranno dal punto di vista geografico e dal punto di vista storico i sei paesi membri del progetto che sono la Spagna, il Portogallo, la Croazia, la Turchia e l'Inghilterra. Le mobilità sono brevi e durano sette giorni. Si fa una selezione all'interno dei volontari, in particolare si vede il profitto scolastico nel campo dell'inglese, delle competenze della lingua inglese e anche le competenze socio-relazionali che sono fondamentali per condividere una cittadinanza attiva e rispettosa delle regole anche all'estero. Per preparare lo scambio di visite nella scuola di Venafro l'incontro con una delegazione di insegnanti provenienti dalla Spagna. Questo progetto è il migliore possibile, io credo. Abbiamo sei paesi d'Europa coinvolti. L'intento è quello di sviluppare un legame d'amicizia. Siamo già molto amici ora, lavoriamo insieme per raggiungere migliori risultati possibili, ovvero condividere le diverse culture e il retaggio delle tradizioni, grazie al confronto tra gli studenti delle diverse scuole. Noi cerchiamo in ogni iniziativa di mostrare agli studenti ospiti, attraverso workshop, elementi della tradizione locale, quali danza, musica. Gli studenti hanno la possibilità di visitare diversi posti, luoghi della cultura, palazzi e centri storici. Insomma, il meglio per conoscere l'eredità culturale del luogo visitato. Infine, da segnalare un aspetto, il livello medio di conoscenza dell'inglese da parte degli studenti italiani appare più basso rispetto a quello dei colleghi europei. Su questo fronte, la scuola deve fare di più e dunque benvengano iniziative come Erasmus. Quello che è fondamentale, noi lo notiamo durante i meeting all'estero, è la competenza comunicativa dello speaking. Nella quale notiamo la difficoltà dei nostri studenti rispetto agli altri, che sono molto più pronti, sono più spigliati nella comunicazione. Quindi questo progetto ci sta consentendo di migliorare su questo piano.